Vogliamo ora presentarvi una situazione che riguarda la sanità e che esiste in Puglia, ma non solo in Puglia. Mi riferisco al super ticket relativo alle ricette per prestazioni diagnostiche e specialistiche, il super ticket di 10 euro e questo super ticket fa sì che la prestazione resa dal pubblico vada in concorrenza con quella privata. Appunto è la prestazione privata e proprio per una ragione di risparmio in tante occasioni viene appunto preferita al pubblico. Infatti quanti di voi, tanti di voi vi sarete sentiti dire andando in un laboratorio di analisi Con la ricetta viene 20 euro, senza ricetta viene 23 euro. E allora uno dice a questo punto se farlo con il pubblico mi costa più di quanto mi costerebbe fatto con il privato, a questo punto ovviamente per una ragione di economicità io opto per il privato. Questa storia del balzello dei 10 euro sulla ricetta per prestazioni diagnostiche e specialistiche fu introdotto nel 2011. Siamo nel 2017 ed evidentemente purtroppo nulla è cambiato. In altre regioni questo balzello non esiste. Non esiste in Basilicata, non esiste in Sardegna, non esiste in Valle d'Aosta. La Puglia è una delle nuove regioni che applicano questo balzello. Qual è l'assurdità? Ecco, la ripeto. Se facciamo un esempio, facciamo un esempio così ci capiamo. Io devo fare l'esame del sangue e con la ricetta spendo tra i 13 e i 20 euro. Invece vado dal privato e ne spendo 12. Vogliamo considerare l'HDL, il colesterolo, che ha un costo di 1,43? Beh, se praticamente vado in una struttura pubblica o privata convenzionata, pago 12 euro appunto con la ricetta. Invece senza ricetta vado al di sotto dei 10 euro. A questo punto uno dice, beh, io devo risparmiare, vado in una struttura privata, mi accerto ovviamente che la struttura privata sia seria e io ci risparmio. In buona sostanza con questa storia del balzello si è fatto un regalo ai privati. La sanità pubblica è come se, come dire, se si desse la zappa sui piedi, lei ci perde e il privato ci guadagna. Questo però dobbiamo dire che non riguarda tanto, non riguarda le prestazioni di medio-alta complessità, come nel caso di risonanza magnetica, ecografie o TAC. Per quanto riguarda queste indagini strumentali, i prezzi sono più o meno identici. E allora perché la gente va dal privato? Perché il privato consente alla gente l'esecuzione della prestazione in tempi brevi, accettabili. Non certo con il sistema delle mostruose liste di attesa, di tal che una persona, se deve pagare in buona sostanza la stessa cifra ed aspettare quattro mesi per farla in un'asl o in una struttura convenzionata e viceversa va da un privato e paga pressoché lo stesso, va dal privato. Quindi il privato in questo caso gioca con i tempi. Attenzione però ai privati, anche questo va detto, perché noi assistiamo a delle offerte low cost. Ma sono delle offerte low cost davvero impressionanti, perché si tratta di prezzi davvero stracciati. Cioè, se una tazzina di caffè in media costa un euro e vado in un bar e me la fanno pagare trenta centesimi, voi cosa pensate? Che ho il bar, il titolare del bar è un benefattore, oppure evidentemente quel caffè è una ciofeca? Io propenderei per la seconda ipotesi. E infatti vediamo che una clinica barese offre un check-up con visita, elettrocardiogramma, analisi del sangue e delle urine a 29 euro, piuttosto che a 180 euro che sarebbe il prezzo, diciamo, medio. Un laboratorio privato di Barletta propone analisi del sangue, urine e markers tumorali a 46,99 euro. In uno studio medico del centro di Bari si propone un check-up e otto ecografie con sconto del 70%. Ma attenzione ai privati, attenzione anche per esempio con certe prestazioni odontoiatriche low cost. Anche qui poi bisogna vedere la qualità, perché sì, è vero che il cittadino vuole risparmiare, però c'è risparmio e risparmio. Il risparmio deve avere una sua logica. Se io devo spendere 30 euro e avere una prestazione fantasma, preferisco spenderne 180, metto i soldi da parte o comunque cerco di, ripeto, di trovare un privato più serio. Cioè, voglio dire, siamo partiti dalla questione del balzello dei 10 euro. E abbiamo visto che questo chiaramente favorisce il privato, però anche qui attenzione ai privati, perché poi quando il prezzo diventa troppo stracciato e non si tratta più un prezzo di concorrenza, ma si tratta di un prezzo abnorme, e allora è proprio il caso di dire che è gatta cicuba. Nessuno fa regali. Ma comunque l'appello è che la regione ci ripensi e tolga questi 10 euro, che davvero sono qualcosa di odioso. Stiamo parlando di salute, stiamo parlando di un diritto sancito dal diritto naturale, dico io, prima ancora, che è da quello statuito, da quello positum, come si diceva nel diritto della filosofia. Voglio dire, andare a infierire con una persona, pretendendo anche 10 euro, sulla ricetta mi sembra pazzesco. Perché altre regioni evitano questo balzello e la Puglia deve continuare a subire? Presidente Emiliano ci risponda. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.